Una nuova lingua Ecco che abbiamo incontrato e salutato gli amici. Ora cerchiamo di affrontare le difficoltà della nuova lingua. Ovviamente non saremo sempre chiari nell'esprimerci e non capiamo ancora tutto. Ci serve qualche frase per cavarcela. Come prima domanda, vediamo se abbiamo una lingua in comune. Lei parla... Lei parla inglese, parla francese. Inglese, francese... Spagnolo, tedesco... Italiano, arabo... Chi lo sa? C'è qualcuno che parla... Non avete capito qualcosa e la risposta vi confonde? Ecco una frase che può procurare una risposta riguardosa. E si può anche chiedere senza imbarazzo. Per favore, parli più lentamente. Per favore, più lentamente. Cosa hanno detto? Cosa dice questo cartello? Potrebbe tradurmelo? Potete anche specificare cosa non avete capito. Se si tratta di una parola, una frase o un cartello. Un momento. Cerco di capire. Potrebbe ripetere? E se non capite, non sentitevi in imbarazzo a chiedere a qualcuno di cui vi fidate che cosa ha detto? Ta, ta, suole shenmo? Ta, ta, suole shenmo? E io che pensavo di parlare bene. Alla fine ho scoperto che non mi capiscono per via della pronuncia. Questa domanda vi toglierà di impiccio. Pronuncio bene? Pronuncio bene? E per finire, Lei mi capisce? Mi capisce? Che soddisfazione per tutti! Quando rispondete, ho capito tutto! E che dispiacere! Non ho capito niente! A volte è più facile mettere per iscritto, specie se si tratta di un indirizzo o di una marca. Lo scriva, per favore! Se non è possibile scrivere, come quando si parla al telefono, si può chiedere può compitarlo? Compitarlo? ZENMO PINXIE? ZENMO PINXIE? Per far sentire tutti a proprio agio, si può ringraziare e dichiararsi soddisfatti. Adesso ho capito! ZENMO PINXIE? 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 Grazie.